Ma voi lo sapevate che in Toscana è ricomparso il castoro europeo? E che in Salento e a Reggio Calabria potete trovare anche il camaleonte comune? Una lista di animali che non vi aspettereste di trovare in Italia e dove potreste incontrarli? E qualcuno magari vi lascerà anche di stucco? Certo che le tue gag sono proprio le peggiori, credo. Il fenicottero maggiore vi consiglio Cagliari o il Parco Delta del Po per poterlo ammirare. La lontra europea presente con pochi esemplari soprattutto nella zona tra Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Abbiamo poi i nostri avvoltoi. Ebbene sì, ci sono anche avvoltoi in Italia. Su tutti il gipeto il grifone, ma non preoccupatevi quest'ultimo rapace non è mezzo leone, mezzo aquila. Ed infine non tutti sanno che in Italia è presente lo sciacallo, più precisamente lo sciacallo dorato. Il maggior numero di esemplari di questa specie sembra essere di casa in Friuli, Venezia Giulia. Se conoscete anche altri animali lasciate un commento.